Si ferma a Crotone l'avventura in Coppa Italia del Piacenza, uscito sconfitto ma a testa altissima dal match dell'uscida con il punteggio di 2-1. Non è infatti bastata la solita prestazione da libro Cuore e Biancorossi, seguiti in Calabria da una trentina di tifosi, per griffare l'impresa, con l'esito finale del match deciso dai gol di Budimir e Ceccherini, intervallati dalla rete della speranza di Bini. Un piace che ha comunque saputo reggere l'urto al cospetto della squadra di Nicola, protagonista della prossima Serie A. La gara si è sbloccata al ventiseiesimo quando la combinazione Tonev-Budimir ha trafitto l'incolpevole Fumagalli, ma l'inarrendevole 11 di Franz ha saputo pareggiare nella ripresa con la rete dell'ex capitano del Pro, a infondere speranza ai suoi nuovi compagni. Un momentaneo equilibrio interrotto però dalla marcatura che ha di fatto deciso la contesa. Ceccherini è uno di quei difensori che una volta avarcata la linea di metacampo, odorano il profumo del gol, ed ecco che al 39esimo viene calato il sipario su di una partita ricca di emozioni e speranze, purtroppo infrante. Ora il Piacenza osserverà tre giorni di riposo assoluto, la ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì prossimo, mentre domenica 20 agosto sarà tempo di un nuovo test amichevole, al Soressi con la Castellana. Il 27 agosto scatterà invece l'esordio in campionato, avversario il Monza allo stadio Brianteo, con la banda Franzini già sintonizzata su queste frequenze.